Con questa uccisione possiamo tornare al punto di salvataggio E salutarci alla prossima Domani orario dovrebbe essere 19 e 21 O 18 e 30, 20 e 30 probabilmente, più probabile No, 19 e 21, 19 e 21 Con questa, a domani Anzi no, visto che siamo in tre, provo a collaudare quella roba là Vediamo oggi se posso mandare un ride da qualche parte a quest'ora Proviamo così al volo Giusto per sport Vediamo un po' Ok Vediamo un ride di qua E Detto ciò Alla prossima Cioè a domani Alla prossima Alla prossima